Io personalmente esprimo preoccupazione ma non sono meravigliato perché, l'ho sempre detto, col proliferarsi e anche il peggioramento, se vogliamo, delle politiche liberiste, ne viene fuori poi un effetto collaterale che sono le destre che avanzano, di fronte anche a movimenti di centrosinistra, progressisti e dal basso che stentano invece a esprimere proposte innovative di cambiamento e di credibilità nei popoli europei. Quindi i segnali positivi sono in diversi territori e movimenti dell'Europa, dove finalmente si lavora per costruire una terza strada, una terza via rispetto al liberismo e destre che avanzano. E quindi invece laddove questa proposta non c'è, la paura del diverso, la sicurezza, la criminalità, l'egoismo, cominciano a proliferare e questo lo si vede in Italia, dove il centrodestra con Salvini ha avuto risultati importanti nelle precedenti elezioni amministrative, lo si vede con questi tentativi di forza che anche forze che si ispirano al nazifascismo cercano di prendere piede nel nostro paese come Forza Nuova e Casa Pound, lo si vede con questo voto con oltre il più 8% che ha avuto l'ultradestra in Germania, ma anche quello che abbiamo visto in Francia poco tempo fa. Ecco perché è importante anche l'incontro che faremo a Napoli sabato con Varoufakis, perché è il tentativo in atto in molte parti dell'Europa di provare a costruire dal basso e in modo alternativo l'Europa dei diritti e dei popoli, costruendo un'alternativa politica, sociale, culturale ed economica e secondo me c'è una grande strada davanti, altrimenti il rischio che questi risultati non saranno più sorprese quando uno dice c'è la sorpresa dell'ultradestra che avanza. Se non c'è un altro sbucco, un'altra alternativa, i sentimenti in questi momenti di difficoltà rischiano di spostarsi a destra.